buona giornata amici da massimo foghetti oggi lunedì 21 novembre 2022 bentrovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme la giornata e iniziamo anche la settimana che si ci introduce verso l'ultima decade del mese di novembre dove già si avverte l'atmosfera natalizia vediamo le notizie del giorno a partire però dall'almanacco e vediamo che oggi la grafica ci presenta la presentazione della beata vergine maria al tempio e vediamo anche le previsioni del tempo abbiamo un tempo altalenante tra nubi e cielo sereno questa mattina il cielo era parzialmente stellato c'è l'imprevalenza sereno poco nuvolosi dicono le previsioni per l'intera giornata con stratificazioni in transito serale i venti saranno al mattino moderati al pomeriggio tesi da ovest e sud ovest le temperature oscilleranno tra i 6 gradi quindi le minime sono diminuite sensibilmente e recentemente le massime non alzeranno più di 14 gradi il sole sorge alle 7.09 tra pochi minuti e tramonterà alle 16 e 38 ed ora diamo un'occhiata anche a un'immagine del nostro territorio e vediamo i primi bagliori dell'alba da gabice mare su verso pesaro verso fano insomma verso sud dove nascerà tra poco il sole e quindi cominciamo con le notizie apriamo il resto del carlino sulla prima pagina vediamo la sintesi delle notizie che vengono pubblicate per quanto riguarda le province marchigiane per quanto riguarda pesaro si parla ancora di terremoto sì perché ieri una scossa di assestamento ma era una scossa piuttosto considerevole ha dato un brutto risveglio a tutti i fanesi e a tutti i pesaresi la terra trema ansia tra i residenti in titola il carlino si staccano calcinacci dal duomo a pesaro e ore di sopralluogo pioggia battente a senigallia il misa torna a minacciare la città e poi a fano la notizia è stata la fiaccolata che si è svolta nel pomeriggio in centro storico in memoria di anastasia mai più femminicidi hanno detto il sindaco e il vescovo armando trasarti che sono stati al vertice sono stati in capo alla fiaccolata che ha percorso il centro storico ancora torniamo a pesaro e vediamo una dichiarazione del sindaco matteo ricci biglietto da visita perché si è inaugurata la nuova pavimentazione di piazza del popolo ieri nel capoluogo piazza del popolo inaugurata con droni ed effetti speciali vediamo anche una sintesi delle notizie delle altre province a macerata cibi e bevande sempre più costosi la città è prima in italia e qui si parla del caro vita a cingoli feste al risparmio piste di ghiaccio ma meno luminarie e anche cingoli pensa al natale e vediamo poi ad ascoli è fermo le notizie che vengono richiamate si parla di sanità coronavirus tornano a salire casi e ricoveri influenza colpiti i bambini non dimentichiamo l'influenza perché se la nostra attenzione è concentrata ancora non molto devo dire però insomma in maniera prevalente sulla pandemia sulle virus c'è anche quello dell'influenza che è sempre lì pronto a così rovinarci magari una settimana di lavoro a porto san giorgio fiera d'autunno stende sapori centro invaso dagli spesatori una bella iniziativa che fa un po il contraltare a quella che si è verificata si è svolta ieri a fano dove è stata inaugurata sapori euromi d'autunno salvati dai pompieri sempre ad ascoli intrappolati nel pulmino nel sottopasso invaso all'acqua e poi a dancone invece vediamo gli effetti della povertà ubriachi e clochard allarme sicurezza al quartiere degli archi e ancora un incidente stradale veramente drammatico trascinata per chilometri erano 7 chilometri dopo l'incidente si cerca un SUV un'auto investe una donna e la trascina per 7 chilometri senza che si accorga il guidatore di quello che è accaduto oppure insomma non ha voluto fermarsi e poi si è svolto anche un tamponamento a catena nella zona stazione sbanda e finisce contro le auto parcheggiate e qui un disastro a catena ed ora apriamo la pagina per quanto riguarda le notizie pesaresi un drone ridisegna dal cielo la nuova piazza ed eccola la nuova piazza centrale di pesaro piazza del popolo dove si è rifatta completamente la pavimentazione abbiamo visto nei giorni scorsi come i lavori hanno portato anche alla luce delle scoperte delle scoperte di tipo archeologico ci sono stati anche delle tombe che sono state ritrovate poi è stato tutto ricoperto ed ora questa è la pavimentazione e ieri durante la inaugurazione c'è stato un vero e proprio spettacolo ieri pomeriggio c'è stato una videomapping e cioè una di quelle cose spettacolari che sono state realizzate con i droni ed un potente videoproiettore che ha giocato tra colori e luci una specie di grande videogame insomma prendendo come spunto la ragnatela della pavimentazione quindi si è giocato anche su con le note pesaro città della musica e questa nuova struttura sarà anche un po un fiore all'occhiello di tutte le manifestazioni di pesaro capitale nazionale della cultura per il 2024 un drone ridisegna dal cielo la nuova piazza dieci settimane di lavori ininterrotti poi sistemeremo l'ultimo angolo ha dichiarato il sindaco matteo ricci a fano invece si è svolta questa manifestazione di pietà e di cordoglio per la morte di anastasia eccola qui ancora nella sua bella fotografia con i suoi capelli ramati e suoi occhi verdi occhi verdi molto belli ha dichiarato il sindaco armando trasarti ricordando come la 23enne frequentava il centro pastorale diocesano per coltivare la sua possione per la musica suonava il piano fiaccole preghiere un palloncino bianco anastasia colpisce il cuore della città l'abbraccio di fano per la giovane uccisa il vescovo ora dobbiamo aiutare i familiari ad allevare quel bimbo rimasto solo è un bimbo di due anni e mezzo che ora è affidato a una famiglia fanese e che insomma si cerca ora di darlo alla nonna nonna e l'altra sorella di anastasia che ieri hanno partecipato a questa manifestazione di cordoglio il sindaco non ha voluto l'assessore cucchiarini non hanno voluto presentarla alla città per rispettare il suo il loro anonimato sono stati circa dai 300 a 400 i partecipanti a questa fiaccolata che ha percorso le vie del centro storico partendo dal pincio arrivando poi in piazza 20 settembre e qui c'è stata la manifestazione di cordoglio vediamo le fotografie che evidenziano i momenti culminanti di questa iniziativa in piazza 20 settembre poi per il corso e poi anche le iniziative culminanti cioè un palloncino con un biglietto di cordoglio e poi la musica che ha così dato l'atmosfera a questa iniziativa con i brani preferiti che eseguiva anastasia è insomma un momento che in cui la città si è fermata per dire no alla violenza sulle donne poi questo è un tema che caratterizzerà anche i prossimi giorni perché tra breve si svolge la giornata internazionale contro la violenza alle donne l'altro tema invece è quello del del no alla interquartieri alla ultimazione dell'interquartieri attraverso le colline di Gimarra ora ci sono tante reazioni ieri hanno reagito gli ambientalisti oggi reagiranno i partiti politici sono convocate due conferenze stampa una dai 5 stelle e una dalla lega Gimarra che spacco se perdi tempo la paghi le reazioni alla mancata prolaga che fa sfumare i 20 milioni per la strada marchigiani e pedini attaccano la giunta solo futuro dem difende i fanesi ebbene perdere 20 milioni il più grande finanziamento mai avuto da fano e sconcertante un vero e proprio smacco e ci sono due consiglieri di maggioranza che in questo caso si staccano dal coro ancora un pochino molto meno affollato di qualche tempo fa devo dire e attaccano la giunta non solo lo fa l'opposizione ma lo fanno anche alcuni esponenti della maggioranza e in questo caso è Stefano Marchigiani che commenta la notizia che per costruire l'ultimo tratto dell'interquartiere occorreva più decisione la nuova strada che dalla rotatoria della trave dovrebbe arrivare alla statale 16 poco prima dell'hotel Riviera secondo Stefano Marchigiani andava fatta io sono sempre stato favorevole alla nuova strada detto Marchigiani e si sarebbe dovuto tirare dritto sul tracciato previsto dal piano regolatore magari aumentando con le risorse comunali finanziamenti della regione si parla di 15 milioni di euro necessari alla sua realizzazione quando invece si temporeggia si rischia di fare una brutta fine e così è stato a Fanesi già da ieri il segretario del PD Tommaso della Dora la capogruppo Agnese Giacomoni hanno chiesto un'assunzione di responsabilità che tradotto vuol dire dimissioni però c'è anche chi difende l'assessore che si è occupato di questo progetto ed è futuro democratico l'area minoritaria del partito democratico che attraverso Riccardo Tonti Bandini dice che Cristian Fanesi ha fatto il suo dovere di assessore facendo progetti rifacendoli a seguito del parere poi della sopraintendenza avviando un percorso con le istituzioni e un dialogo con i cittadini è sbagliato dice Bandini cercare un capo espiatorio la questione è più ampia e riguarda tutta la giunta e il sindaco insomma in realtà c'è stato questo defiance in merito a questo progetto ed ora se ne paga le conseguenze ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano riprendiamo le notizie a partire dalla fiaccolata in 400 alla fiaccolata per Anastasia nel corteo silenzioso che la mamma e la sorella erano presenti ma non sono state identificate forse sono in questo gruppo raccolte tutte le candele per inviarle in Ucraina dove non c'è energia elettrica e le candele servono non tanto per fare un segno di devozione ma proprio per illuminare e forse anche un po' per riscaldare dato che anche il gas è stato interrotto l'altra notizia stop all'interquartieri c'è chi festeggia ma bruciano i 20 milioni andati in fumo Benini a nome del comitato per la salvezza dei quartieri di Trave, Arzilla e Gimarra che sarebbero state indubbiamente ferite nel loro contesto ambientale se la strada interquartieri fosse stata condotta a termine esprime la sua soddisfazione ed ovviamente sono soddisfatti anche i residenti di Gimarra che non si vedono più minacciati da questo sconvolgimento ambientale che avrebbe intaccato le colline che stanno sopra il loro quartiere. Come comunicato dal sindaco Massimo Seri per la mancata di sabato invece grazie alla mancata concessione di una proroga per il completamento dell'arteria da parte del ministero delle infrastrutture e trasporti questo nuovo tratto di strada non si farà. Non posso che rammaricarmi per la perdita dei 20 milioni promessi dalla regione ha detto anche Benini perché ovviamente se è contento che non si fa più l'interquartieri a Gimarra come cittadino fanese rimpiange che Fano non ha più questo tesoretto e si augura che magari possa essere dato ugualmente per essere speso per un altro progetto e lo indica qual è questo progetto ovvero la realizzazione di una complanare sud che unisca il traffico che proviene appunto da sud e che per andare a Pesaro possa poi essere immesso nel casellino di Fenile che dovrebbe essere a buon punto per il termine del suo percorso burocratico quindi un casellino che dovrebbe realizzarsi. Passiamo a Mondolfo e vediamo ancora gli effetti del terremoto la chiesetta di Santa Vittoria nuove crepe dopo il sisma preoccupazione per l'ex luogo di culto una profonda fessura sulla scalinata la vediamo qui questa fessura e in questo momento ve la traccio ancora di più eccola qui una fessura importante che intacca anche la trabeazione della entrata e poi vediamo qui che dall'occhio centrale abbiamo anche altre fessure quindi una bella scossa che ha purtroppo minato la stabilità di questa chiesetta già colpita dal terremoto del 30 ottobre del 1930 a cui si fa risalire la scossa più forte di quella che è accaduto il 9 novembre scorso e poi vediamo che il Corriere Adriatico riporta l'inaugurazione della 34esima edizione di Sapori e Aromi d'autunno che si è svolta ieri al Codma di Fano la prima giornata perché poi la manifestazione dell'evento sarà replicato domenica prossima stende moltiplicati e folla di visitatori al Codma ed ecco tutti premiati perché nell'occasione si sono premiati i produttori coloro che sono considerati i migliori divulgatori dei prodotti del nostro territorio che costituiscono un grande sostegno all'economia l'agricoltura in questo periodo è stata molto rivalutata come bene primario come settore primario dell'economia comprensoriale dell'economia generale sono stati premiati ieri lucio pompili chef il giornalista davide usebi il distretto biologico terre marchigiane presieduto da sara tomassini l'associazione via della seta di mauro rapa l'azienda agricola biologica san cesareo di sabina pesci e michele nardella presenti anche tutti i livelli istituzionali ieri a questa cerimonia al Codma dal sindaco massimo seri al presidente della provincia giuseppe paolini e per la regione era presente l'assessore stefano aguzzi e il consigliere rossi e poi ovviamente non sono mancati gli organizzatori a partire da giorgio sorcinelli che è il patron di questa manifestazione ed è colui che ha organizzato veramente personalmente il tutto il resto beh il resto è una sinfonia di prodotti autunno è bellissimo è una stagione molto molto produttiva per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura e poi le sapienti mani di coloro che sanno coltivare che sanno produrre ma che sanno anche trasformare i prodotti rendono appunto tutta questa tutta questa massa di generi alimentari veramente saporita ed encomiabile giriamo ancora la pagina e passiamo allo sport passiamo allo sport perché vediamo che la giornata sportiva è andata così così per le squadre di casa anzi non molto bene dobbiamo dire il titolo per quanto riguarda la vis vis gelata in extremis nei confronti della fermana niente da fare per i biancorossi che proprio non riescono più a trovare la via della vittoria una perla di fedato aveva in l'uso ma al novantesimo proprio in extremis diciamo in zona cesarini bulino inventa un euro gol e il derby finisce pari 1 a 1 vispesero 1 fermana 1 e invece vediamo la debacle del fano fano perde il derby lo perde con il senigallia con la vigor 3 a 0 addirittura vigor su fano che botta dice il titolo il derby si colora di rosso blu mancini pesaresi e cariota schiantano la resistenza granata la squadra di clementi rafforza il terzo posto mentre l'arma rallenta ancora la sua corsa dopo un exploit veramente interessante ed entusiasmante il fano ora sembra aver tirato i rimi in barca e sembra arrestare quello che con grande entusiasmo aveva intrapreso ai primi tempi primi e le prime partite del campionato vigor 3 fano 0 questo è un po il risultato deludente per i granata vediamo anche le pagine pesaresi e del corriere adriatico vediamo come si parla del della piazza della piazza a pesaro la nuova piazza del popolo libera dall'effetto transenna droni spettacoli di luce ed effetti speciali per il taglio del nastro pesaro 2024 e questo l'appuntamento che il sindaco matteo ricci dà per quanto riguarda tutte le iniziative di pesaro capitale nazionale della cultura e qua vediamo qualche effetto speciale che è stato realizzato con la video mapping con il drone insomma che ha dato dei curiosi effetti luminosi in piazza del popolo a pesaro è un'altra alba di paura viviamo nell'angoscia disposti nuovi controlli la scossa di terremoto delle 6 eventi che ha dato un brutto risveglio a tutti gli abitanti della costa ieri ha seminato ancora un sentimento di ansia e di paura dopo lo sciame sismico ricci torna a fare pressing per lo stato di emergenza e lo fa nei confronti della regione che al momento tentenna per dichiarare lo stato di emergenza al governo dopo il primo forte movimento tellurico 4.3 questo è stata l'intensità di quello che è avvenuto ieri registrato a largo di lì di pesaresi seguito da un altro di 3.2 sempre nella stessa zona era a largo di fano per dirla con precisione alla fine si sono contate in tutto 18 scosse superiori a 2.0 tra le quali due di magnitudo 2.8 alle 6.52 e alle 10.41 e uno di 3.3 alle 10.59 dunque il risveglio domenicale è stato così all'insegna dello spavento e della prensione con l'incubo che ritorna e con cui si è costretti a convivere per le loro imprevedibilità insomma le loro scosse ovviamente ed è un problema questo perché insomma anche chi non sta molto bene non può alzarsi dal letto vivere questi momenti di tensione e di paura senza muoversi costituisce un problema aggiuntivo. In questo articolo invece si parla dei problemi del quartiere di pantano pantano chiede più cura e più sicurezza non è solo una vetrina per il comune ascoltiamo pesaro l'associazione elenca le carenze del quartiere a cominciare dalle telecamere non funzionanti ma qui vediamo benissimo le immagini di quello che è il degrado del quartiere vediamo delle recinzioni malmesse vediamo la pavimentazione sconnessa tra le segnalazioni le staccionate dei giardini pubblici danneggiate e le strade dissestate con pozzanghere crateri pozzanghere veramente grandi dove la viabilità è molto molto difficile e poi vediamo qui invece un problema che vige da molto tempo ma non si è ancora risolto idrocarburi sversati vicino al foglia sette anni di bonifica e ora nuove analisi la richiesta del comune nell'area di via fermo continua il monitoraggio di ditta e dell'arpam si tratta di uno scarico accidentale che si è verificato nei pressi del foglia in via fermo nella zona industriale sette anni fa ed ora controllano ancora le verifiche il comune dopo la conferenza dei servizi di fine ottobre giovedì scorso ha richiesto nuovi monitoraggi alla ditta marian in company in liquidazione proprietaria del deposito di carburante nel quale nel 2015 è fuori uscita una miscela di gasolio e biodiesel da un serbatoio su livello stradale che non era interrato ebbene dalle prime analisi seguite alla bonifica del sito si era rinvenuta nella falda un additivo per la benzina verde composto ritenuto moderatamente nocivo e non cancerogeno per fortuna ma che non può permanere a lungo nel suolo e quindi occorrono nuove bonifiche insomma questo è un problema che è in atto da diverso tempo e deve essere ancora risolto e poi vediamo come in un punto critico della viabilità pesarese quello di ponte valle dove purtroppo nei giorni scorsi si è verificato quell'incidente mortale in cui ha perso la vita una ragazzina di 14 anni ebbene come se questo non fosse bastato ebbene si è verificato un nuovo un nuovo incidente nello stesso punto stesso posto è uguale dinamica già costata la vita milena lentini ponte valle nuovo schianto all'incrocio per candelara un'auto che proveniva da santa veneranda si apprestava a svoltare per la strada valle tre sole che porta a candelara mentre un'altra macchina scendeva da trebbio transitando lungo la provinciale 32 per andare verso pesaro quando i due mezzi si sono trovate all'altezza dell'incrocio qui è avvenuto lo scontro con una delle due auto che è finita con lo schiantarsi contro il muro di una delle abitazioni che sorgono lungo la strada stessa dinamica stesso punto a questo punto occorre intervenire per correre ai ripari vediamo anche la pagina di urbino dove si parla della visita del presidente latini al consiglio comunale ducale e la diocesi abolita si è trattato si è parlato anche del problema della soppressione della diocesi di urbino e del suo accorpamento con quella di pesaro nel momento in cui dino latini che il presidente del consiglio regionale ha fatto visita ad urbino a colloquio con monsignor marconi presente al consiglio comunale feltresco è stato sollecitato ad intervenire da michelli e gambin dallo stesso sindaco ebbene latini ha preso l'impegno per la difesa della diocesi chiederò un confronto con il presidente della cem ha dichiarato ebbene questa era l'ultima notizia a questo punto chiudiamo i nostri giornali poi vi invito a andarli a comprare in edicola e a leggerli in tutta la loro complessità in tutta la loro varietà di notizie e io vi saluto vi do appuntamento alle sette di domani per le notizie del giorno ad occhio alle notizie alle 20 e 30 di questa sera su fano tv questo è tutto vi saluto buona giornata grazie a tutti